Dal 3 luglio al 3 settembre, visitando il Museo del costume mediterraneo e della cultura materiale nei liblei, allestito nel cuore barocco di Scicli al numero 65 della celebre via Mormino-Penna, sarà possibile incontrare e sostenere l'esperienza del villaggio del Magnificat. L'evento Scicli vuole offrire l'opportunità a chi visita le splendide sale allestite nella sede dell'Opera Pia Carpentieri di contribuire alla realizzazione del villaggio del Magnificat, un'esperienza unica nel territorio siciliano di solidarietà, pensata per offrire accoglienza agli ultimi e ai poveri e a chi cerca una casa e un rifugio perché solo ed è marginato, rendendo concreto il sogno di Donoreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII. Il villaggio è un progetto messo in campo dall'omonima cooperativa in collaborazione con la comunità Papa Giovanni XXIII, la Caritas di Noto, con il sostegno della diocesi di Noto della parrocchia di San Pietro a Modica e della fondazione Ebbene, che sta prendendo vita tra le mura di Villa Tasca, immobile della metà dell'Ottocento circa, oggi in corso di ristrutturazione, è destinato ad accogliere in quattro nuclei abitativi famiglie pronte all'accoglienza che daranno un tetto e un sostegno a coloro i quali si trovano in condizione di povertà o emarginati per la loro disabilità. Al contempo, all'interno di Villa Tasca verrà realizzato un ostello con 20 posti letto destinato al turismo sociale o ad ospitare quanti vorranno contribuire con il proprio lavoro al villaggio del Magnificat. La straordinarietà di questo progetto sta proprio nel metodo, basato su una proposta integrata di ambiti diversi e di condivisione, vissuti nello stesso luogo e all'interno di una comunità, costituita da famiglie e da single, a parte all'accoglienza di soggetti fragili e realizzatori di una serie di servizi per il territorio, che vanno da quelli specialistici a quelli educativi e rieducativi, a quelli di integrazione e di inserimento lavorativo per disabili e persone che hanno perso il lavoro o che non hanno mai lavorato. È stata quindi avviata una campagna di raccolta fondi che si incrementerà con un calendario di eventi culturali promossi dal Museo del Costume di Scicli e che si svolgeranno durante i mesi di agosto.